E salve a tutti YouTube, si fa, sono Filippo Ferenza qui con una nuova drink review. Oggi però avrò il Prime di Logan Paul Gusto Ice Pop. Ed eccoci qua con, in un certo senso, il secondo episodio dedicato alle bevande Prime di Logan Paul. Settimana scorsa avevo provato quella Limone Lime, una bomba, link qua sotto per vederlo. E questa volta andrò a provare quello Ice Pop. Design, vi posso dire, molto bello, molto figo. Ogni volta le metto sempre al contrario queste bottiglie. L'Ice Pop famoso gelato, famoso anzi ghiacciolo americano, che si differenzia appunto per le tre tipologie di gusto. Però rivisitato in chiave Logan Pauliana, diciamo così va. Come sempre vi posso dire, bello figo, molto bello, con questa scritta Prime che ricopre, come sempre, tutta quanta la bottiglia. Dietro invece abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti. E i valutrizionali qui in basso. Bottiglia da 500 ml, pagato 2,29 euro. Ora vedremo se questo Ice Pop sarà, in un certo senso, questa rivisitazione del gusto Ice Pop funzionerà, oppure no. Qui abbiamo una sensazione di cocco veramente importante, molto particolare. Anche il colore assomiglia a una acqua al cocco. Ma ora passiamo all'assaggio, quindi... Vi posso dire, molto forte, molto predominante. Abbiamo una sensazione di zucchero, non dico fastidiosa, però quasi. Il cocco, in un certo senso, smorza questa sensazione di estremamente dolce. Però vi posso dire che ricalca fedelmente il gusto dell'Ice Pop. Però con queste note di cocco che, non dico che lo migliorano, però aggiungono qualcosa in più per fartelo gustare appieno. È molto forte, molto predominante come gusto. Non è fastidioso, però è molto importante. Non so se lo riuscirei a bere tutto in un solo sorso. Però comunque, ti ci devi, in un certo senso, abituare a questo gusto. Però è buono. E quindi ragazzi, che dire? Spero che questa rinfrescante drink review vi sia piaciuta e vi mettono qua sotto in descrizione. Altri video drinkosi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete ovunque. E come sempre, cheers!